La relazione tra Manila Nazzaro e Stefano Radei è partita con l'acceleratore e non è prevista alcuna battuta d'arresto. Tra le pagine del nuovo numero di Key Magazine è comparsa un'indiscrezione eclatante sulla coppia. L'ex Miss Italia e l'insegnante di ballo potrebbero presto convolare i due. Si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. avrebbero fatto il possibile per mantenere il segreto. Tuttavia, come recita un famoso detto, se lo sanno in tre, lo sa anche il re. Ed ecco che la notizia, in un attimo, ha fatto il giro. L'ex concorrente del grande fratello Vippa ha deciso fin da subito di vivere alla luce del sole la storia d'amore con Radei. L'ex volto di Ballando con le stelle ha riportato serenità e armonia nella vita di Manila in un momento decisamente non fa. La 46enne era fresca di rottura con Lorenzo Amoruso dopo ben cinque anni. La separazione, come è noto, è stata sofferta e turbolenta. È stato anche grazie al supporto del ballerino che la Nazaro si è lasciata alle spalle quel capitolo doloroso della sua vita sentimentale. Il primo passo importante, la convivenza, è arrivato rapidamente e il matrimonio, a quanto pare, non sarebbe soltanto un'idea astratta. Il settimanale Chi, che avrebbe ricevuto la soffiata dalle «amiche più intime e charliere» della coppia, scrive che il grande giorno potrebbe arrivare a maggio 2024. Il tentativo di organizzare le nozze in gran segreto, dunque, sarebbe stato vanificato dalla chiacchiera facile di persone vicine ai piccioncini. In primavera saranno davvero fiori d'arancio? Se l'indiscrezione trovasse conferma, per Manila Nazaro si tratterebbe del secondo matrimonio. Prima di innamorarsi di Lorenzo Amoruso, l'ex vippona era sposata con un altro ex calciatore, Francesco Cozza. Gli ex coniugi avevano pronunciato il sì nel 2005 e, dalla loro unione, sono nati Nicolai.